Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo pensato di affrontare il tema del giorno con una persona che ha sicuramente molta, moltissima esperienza in campo internazionale, un giornalista inviato speciale in ogni parte del pianeta, uno che ha avuto anche esperienze molto, molto vicine a quelle provate da Silvia Romano, anche se ovviamente non le stesse. Sto parlando di Toni Capozzo, che ringraziamo di essere con noi questa sera. Buonasera Capozzo, cominciamo parlando di quel che lei scrive. Sto parlando di una persona che continua ad essere prigioniera. Cosa vuol dire questo? Tendo a dire che la liberazione fisica di Silvia Romano è stata sotto gli occhi di tutti, insomma l'abbiamo visto il suo arrivo all'aeroporto di Ciampino, ma non è una ex vittima, continua ad essere vittima a mio avviso, continua perché evidentemente non esci da un anno e mezzo di reclusione come quello che ha passato lei con la mente sgombra, perché evidentemente questa sua volontà di indossare un abito che è una specie di manifesto esibito, in genere le conversioni autentiche sono dei processi travagliati e intimi, invece quello è un manifesto e non è l'abito tradizionale somalo, chi dice così non è mai stato in Somalia, è l'abito che viene imposto alle donne da Shabab, i cosiddetti ragazzi che sono una temibile organizzazione terroristica. Quindi secondo me stiamo parlando di una persona molto provata e verso la quale dobbiamo provare necessariamente, obbligatoriamente della pietà perché ha passato un periodo molto duro e quel periodo continua nelle poche cose che ha detto, di fatto sono state un grande spot a favore di questa organizzazione, perché c'è stato spiegato che non solo non vieni trattato male, che non solo devi essere grato nei confronti di chi ti ha tolto la libertà, ma addirittura che la loro, la religione che professano, perché non ha aderito all'Islam, all'Islam come lo conosciamo noi ormai nei nostri colleghi di lavoro, nei nostri vicini di casa, come una dimensione religiosa intima, privata, mostrata anche, ma insomma del tutto libera. No, ha aderito all'Islam degli al-Shabaab, che è una cosa molto diversa e per questo io la vedo ancora come una che continua a essere vittima. Certo, senta, Domenico Quirico, che è uno che l'ha provata veramente questa esperienza sulla sua pelle, parla di questa cosa del nome, che sembra una cosa folcloristica, invece lui la descrive in questo modo. Conosco il rito dell'offerta della conversione per averlo vissuto comincia con una proposta gentile, quella di cambiare identità e di assumere un nome musulmano. Non gli basta tenerti in pugno, barattarti per denaro, vogliono la tua resa, la tua anima. È un obbligo a cui credono sinceramente, salvare un miscredente dal peccato, portarlo alla vera fede, a crescere in unità il paradiso dei puri e dei giusti, che doppia vittoria. Poi lo si potrà vendere, sfruttare, possedere, senza rimorso. Beh, guardi, c'è da dire che intanto cambiare il nome non è un modo semplicemente di scegliere un soprannome. Nell'Islam è una sorta di battesimo nuovo. Sono stato fino a ieri quello, adesso sono un'altra persona, perché sono stato illuminato dalle parole del Corano. Tra l'altro, nell'interrogatorio che l'è stato fatto, sembra che Silvia Romano, Aiscia Romano, abbia detto di avere imparato qualche espressione di arabo. In Somalia si parla lo suaili, che è lo stesso. La lingua degli africani, sì. L'arabo è la lingua del Corano, delle preghiere che avrà recitato a questo punto insieme con i suoi carcerieri. Allora, il nome non è una cosa formale. Quando ero in Iraq, a Baghdad, e lavoravo con dei colleghi, per me erano dei compagni di lavoro, l'autista, l'interprete. Di soprannome mi chiamavano Aji Tony. Tony è il mio soprannome nei documenti, è Antonio. Aji vuol dire semplicemente vecchio, perché Aji è il pellegrinaggio che si fa alla Mecca almeno una volta nella vita e in genere uno risparmia, se non è particolarmente benestante, risparmia una vita per poter a latine fare questo viaggio che è uno dei cinque pilastri dell'Islam, una delle cose che devono essere fatte. Quindi per trasposizione, chi ha fatto l'Aji e in genere può portare come segno distintivo uno zucchetto bianco che forse avrete visto qualche volta, vuol dire è il segno che si è purificato, insomma ha assolto il dovere per traslato Aji vuol dire vecchio, quindi per me Aji Tony era il vecchio Tony, potremmo anche dire zio Tony. Aisha non è un nome qualunque, io già una volta l'ho raccontata perché c'è un'associazione di donne musulmane qui a Milano, di militanti musulmane che si chiama Aisha. Aisha era la figlia di Ghedapia anche, c'è una canzone a lei dedicata, credo forse di Yusundur, ma Aisha è la sposa bambina di Maometto, quella che lui ha sposato quando lei aveva sei anni, matrimonio consumato secondo gli Adit quando ne aveva nove ed è diventata poi la sua moglie preferita, quella che ne ha raccolto in qualche misura l'eredità quanto da autorevolezza. Insomma non è un nome qualunque, non ha scelto di chiamarsi Nur, Luce o Mariam. Molto simbolico mi pare, molto simbolico e utilizzabile ai fini di promozione del Jihad. Esattamente, esattamente. Due cose, ha sottolineato Capuozzo, che fanno parte appunto del teatro, non più del teatrino che si è scatenato su questa cosa. L'improvvisazione di molte, non di tutte ovviamente, organizzazioni non governative, ONG. E l'altra cosa, un po' più gravetta forse, la passarella di Ciampino, la tonnara di Ciampino, come è stata chiamata. Ecco, sono due passaggi che, come dire, dimostrano che non impariamo mai, insomma. Guardi, quanto riguarda le ONG è esattamente come qualunque altra cosa. Ci sono giornalisti bravi o meno bravi, medici bravi e medici di cui, insomma, si sparge voce non andare da quello che combina solo guai. Avvocati che ti risolvono un problema e avvocati che te lo complicano. E così le organizzazioni non governative. Nel suo caso si trattava di un'organizzazione non governativa nata da una coppia in viaggio di nozze che sogna di fare del bene, però presente sul territorio. Non si accontenta di dire niente lista di nozze versate i regali oppure non compriamo le bomboniere e le devolviamo a Saint Saint Frontier o qualche altra grande organizzazione che ha i suoi strumenti collaudati di presenza in territori edifici. No, vogliono aprire un orfanatrofio in un villaggio molto isolato del Kenya. Credo che il posto di polizia più vicino sia almeno tre ore d'auto. E non solo, non dicono, vabbè, assumiamo questa ragazza appena laureata, laurea breve dopo tre anni, senza particolari competenze nel educare dei bambini perché anche quello richiede delle competenze e lei aveva fatto esperienza, molta buona volontà, esperienza in un oratorio. Ma non stiamo parlando di un medico, sia pure appena laureato, di un ingegnere. La questione, scusa Capozzo, la questione delle competenze e di rimente quando si fanno, quando si vanno in questi posti. Esattamente, guardi, io conosco organizzazioni con cui mi è capitato di fare polemiche, penso a Emergency ad esempio perché è un'organizzazione non governativa molto ideologica, ma quelli mandano in giro infermieri professionali, mandano in giro medici professionali, hanno in genere della vigilanza armata per proteggere loro e quelli che vengono assistiti in posti dove avere dei vigilantes attorno alla tua struttura è una condizione quasi necessaria. Questa ONG, fai da te, manda una ragazza di 23 anni da sola in un villaggio sperduto e addirittura la dirigente, la presidente di questa ONG dice ho detto ai carabinieri e anche alla famiglia che ho idea di chi possa averla tradita. Questo è responsabile, doppiamente responsabile se poi vengono fatti questi disastri e chi paga sono i soldi degli italiani. Io penso che la vita vale sempre, non ha prezzo e quindi è giusto salvare chiunque, ma con un po' di amaro in bocca perché qualcuno è stato mandato allo sbaraglio da qualche irresponsabile. In un paese in cui, vi ricordate il caso di Silvia, un'altra Silvia, Melis, una ventina di anni fa, spesso ai sequestrati venivano congelati i conti in banca perché non pagassero il sequestro. Certo. Allora c'è un inevitabile, dicono all'odio, le oppese, è inevitabile che ci sia dell'indignazione, poi lo stile non è acqua, uno lo esprime in modo volgare, un altro dissente in modo... Senta una cosa però, amarezza per amarezza, lei ha fatto un passaggio molto interessante su due altre questioni che di questi tempi hanno, come dire, fatto venire la pelle d'oca agli italiani. I parenti dei morti di Bergamo, lei ha scritto, si sono dovuti pagare le cremazioni. Gli italiani che stavano a Cuba per il rientro causa coronavirus si sono dovuti pagare il viaggio l'Italia. Anche gli italiani che stavano a Malindi, se devo essere... Beh, per quelli potrebbero magari... Anche loro hanno dovuto pagarsi il biglietto. Guardi, quello che stride... Noi sappiamo che la parmesina non è stata brillantissima nel dare la possibilità rapidamente a tanti italiani sparsi per il mondo di ritornare nel loro paese in cerca di una situazione sanitaria migliore o semplicemente per restare in contatto con la propria famiglia. Hanno pensato che una bella passerella potesse essere il rientro di questa ragazza finalmente liberata, esponendola, dandole sì l'opportunità di esibire questo abito islamico e insomma di fare quello che abbiamo visto tutti, ma esponendola all'attenzione delle telecamere, dei microfoni, delle macchine fotografiche. Una persona dopo quell'esperienza avrebbe il diritto di essere tutelata, non esibita come un trofeo. Esattamente come... Guardi, stamattina parlavo con una dirigente ospedaliera perché mi sto mandando un fotografo a fare degli immagini in una terapia intensiva e le ho detto per primo, va da sé che nessuna immagine degli ammalati. Qui andiamo addirittura oltre il diritto alla privacy. I soggetti deboli vanno sempre tutelati. E allora è stata trattata come un trofeo da esibire, non come una persona che andava tutelata. Perché nella gara tra Conte, tra il Premier e il Ministro degli Esteri, l'uno l'insaputa dell'altro che cercavano di essere in prima fila nell'accoglierla... Ha notato che il Ministro della Difesa non ci è andato a fare la passerella? Credo che testimoni a favore della sobrietà del Ministro della Difesa, se non ci è andato per non fare la passerella tanto di cappello, però è il minimo sindacale. Comunque riferiscono che i media arabi, quasi a reti unificate, abbiano mostrato quelle immagini. Ah no, ho state quelle immagini, ma se uno... è una cosa che io faccio per abitudine, gira tra i siti islamisti del fondamentalismo islamico e non solo quelli, anche molti privati cittadini sui social. C'è un grande entusiasmo. I musulmani italiani addirittura hanno detto Mashallah, che vuol dire benvenuta, sorella, rivolgendosi a Isha Romano. Io quando ho potuto ho risposto guardate che è una pessima propaganda per l'islam, perché lo fa apparire come la religione dei carcerieri in grado di subornare. È come lo stalinismo che non si accontentava di mandare la gente nel gulag, ma pretendeva la confessione anche quando sapevano che tu eri innocente, non si accontentano di sequestrarti il corpo, vogliono sequestrarti l'anima. Dopodiché gli unici siti che sono rimasti diciamo abbastanza di basso profilo sono quelli dello stato islamico. Perché? Perché gli al-Shabaab fanno capo ad al-Qaeda e per loro è stata una brillantissima operazione e sono due organizzazioni in lotta, in concorrenza l'una per l'altra per inalberare la bandiera del fondamentalismo islamico. Allora l'Isis, dai suoi rifugi, dai suoi catacombe nel deserto siriano, se ne è rimasto zitto perché è stato un audace e ben riuscito colpo quelle immagini girate a Ciampino per la loro concorrenza, cioè al-Qaeda. C'è abbastanza della città. la verità. Quando ci sono in mezzo servizi segreti, calcoli geopolitici e cose del genere la verità scompare, anzi è la prima vittima. Cosa dice di questo? Ed è anche questo il caso forse? Assolutamente sì. È stata la volta in cui mi sono reso conto che provare a raccontare come stanno davvero le cose in solitudine. Beh, uno combatte una battaglia donchisciottesca destinata a perdere, poi a contentarti di dire ma io la mia, quello che ho visto l'ho raccontato con onestà, poi se altri hanno raccontato altre storie. In quel caso quella vicenda passò alla cronaca se non alla storia perché come l'assedio della natività dove i riflettori erano puntati sui carri armati israeliani che circondavano la Basilica e non come l'occupazione della natività. Avendo io sentito, non parteggiavo né per gli uni né per gli altri, essendo stato io insieme a un cameraman Rai il primo a vedere l'irruzione dentro il convento, io al primo momento pensai che erano truppe speciali israeliane per come erano armate con le bombe a mano attaccate ai giubbotti, non erano poveri civili palestinesi. Sono stato l'unico, perché il mio operatore poi era l'unico che parlava arabo, a intervistarli nel chiostro del convento, mi mandarono un farmacista e un giovane, ma sullo sfondo non si nascondevano neanche, avevano le armi armate fino ai denti. Al mondo venne raccontata una storia di assedio di poveri Cristi e alla fine, vi ricordate, si trovò la Basilica Natività piena di cibo montato per terra. La verità è davvero la prima vittima in storia come questa. Eccole, questa domanda che le ho fatto era per introdurre un altro tema, il ruolo della Turchia, perché non so se è una fake news o qualcosa del genere, una messa in scena, il giubbotto antiproiettile della ragazza aveva lo stemma dei servizi segreti turchi sostanzialmente, dicono che non sia vero, ma comunque non importa. Il ruolo della Turchia è effettivamente fondamentale in quello scenario. Tra l'altro ho trovato che gli Shebab, da quando è scoppiata l'epidemia di coronavirus, scortano gli aiuti umanitari della Turchia in Somalia. Quindi è un gioco molto grande, anzi sarebbe un grande gioco voler fare una citazione, ma insomma credo che sia questo poi il segreto. Dietro c'è la Turchia che sta in Libia, che ha bisogno di parlare con gli italiani, gli americani che sono contro... Cioè c'è un gioco geopolitico straordinario dietro. Cosa dice lei? Come sempre, quello che va aggiunto alle cose che hai detto tu, per capire chi sono gli Shebab, va sempre ricordato quell'università di Garissa, un campus dove fecero l'irruzione, e andarono classe per classe, aula per aula, chiedendo se sei musulmano o sei cristiano. Quello diceva sono cristiano e veniva... Uccisero 48 studenti in questo momento. Però gli al-Shabaab, esattamente come Hamas in Medio Oriente, sono un'organizzazione terrorista, fondamentalista, però pulita, non corrotta. Loro aiutano moltissimo la popolazione, non si arricchiscono personalmente. Questo naturalmente rende più difficile combatterli quando invece la classe dirigente somala della capitale Mogadiscio, molto spesso, è invece, come succede, non solo a quelle latitudini, ma dire la verità, piuttosto corrotta. Quindi non c'è nessuna meraviglia che la Turchia, con molto pragmatismo, invii degli aiuti umanitari e che siano gli al-Shabaab a scortarli, facendo poi nel villaggio la bella figura di chi ha le mani pulite, per essere espliciti. E se maneggia dei soldi, compresi quelli del sequestro che abbiamo pagato noi, sono soldi che finiranno per acquistare armi, per finanziare altri sequestri, ma anche per distribuire sicuramente, questo è importante da capire perché, e poi voglio dire ancora una cosa sulla Turchia, perché può essere un elemento che ha affascinato una ragazza giovane, senza particolari conoscenze del mondo e dell'Africa, come Silvia Romano. Può probabilmente essere apparso che le persone che non la picchiavano, che la tenevano, si reclusa, ma in fondo era una specie di Robin Hood, della foresta di Sherwood, perché distribuivano cibo ai poveri della terra. La Turchia, poi nessuno a quei livelli è generoso gratis, ha firmato, mi pare a dicembre, con il governo Somalo, un accordo che le consente le ricerche petrolifere nel sottosuolo e nelle acque territoriali della Somalia. Quindi c'è la geopolitica delle potenze regionali, ma c'è anche abbastanza corposo l'interesse economico stretto. L'impero ottomano che ritorna. Senta, noi a questo punto siamo ricattabili anche dalla Turchia, dobbiamo qualcosa anche alla Turchia, visto che dobbiamo tutto a quasi tutti. Certo, nessuno fa niente per niente, non credo che di per sé l'operazione, non è un caso che pubblicano la foto con l'agenzia Anadolu, che è praticamente l'Ansa turca, le immagini di Silvia Romano sorridente con la mezzaluna e la stella, che è il simbolo della Turchia. Cioè, è mettere una bandierina su questa operazione. Non si libera neanche un ostaggio senza l'aiuto della Turchia. Quindi, evidentemente, qualcosa lo dobbiamo. Per loro è anche un enorme vantaggio nel rapporto con gli Shebab. Siamo quelli al quali avete affidato questa ragazza da liberare e quelli che vi hanno passato la valigetta con i soldi. È un accreditarsi come un punto di riferimento. Ci fosse, Dio non voglia, un altro sequestro in Somalia. Beh, uno sa a chi deve rivolgersi, qual è. È un po' come il ruolo che avevano certi avvocati nei sequestri in Italia, come potrete ricordare. Non erano mai del tutto limpidi. Ultime due cosette. Giulio Meotti, oggi sul Foglio, dice il clamore sul caso Silvia Romano è quello di una civiltà debole e morente. Qui entra il discorso della crisi dell'Occidente, della guerra di civiltà, eccetera, eccetera. Però un pochino sì, siamo demolucci. Io credo di sì, però la cosa che è una storia nella quale non bisogna perdere la propria pietà, anche nei confronti di Silvia Romano. Quello che più mi stupisce è persone che da casa loro, e spesso sia sui social che intervistate dai giornali, che nelle lettere, che dicono che questa conversione all'Islam è un fatto privato, personale, che noi non possiamo sindacare. Viviamo nel continente che fa delle libertà individuali la propria bandiera, e riteniamo legittima, accettabili, una sfera in cui non addentrarsi il fatto che una persona prigioniera basterebbe chiedersi il contrario. Vi risulterebbe che se per ipotesi una ragazza afghana venisse sequestrata da un'anonima sequestria ancora operante in Italia e nel corso di questo sequestro scoprisse, come succede a tanti mafiosi o andranghettisti, scoprisse una specie di fede religiosa, vi ricorderete il santuario di Madonna dei Polsi nella Spromonte, e ritornasse in Afghanistan con l'immagine di Padre Pio, sia benedetto, e con il poster di Papa Bergoglio, sia benedetto, pensate che lo potrebbe fare? Ultima cosa, una battuta poi la lascio perché l'ho veramente sfinita. Lei scrive, fanno pena la destra e la sinistra, in questo caso, fanno pena i commenti generosi. Beh, lei è un po' ingeneroso, o no? No, ho scritto, facciamo pena noi tutti, me compreso, perché abbiamo creato un pandemonio, ripeto, l'idea, e chi ha esposto a questo pandemonio è stato innanzitutto il governo con quella parata di Fiumicino. Una storia di questo tipo bisogna fare esattamente come si fa con un malato in ospedale, insomma, tirare una tendina per proteggerlo dallo sguardo indiscreto della curiosità. Mi ha fatto esattamente come succede negli incidenti stradali, sull'altro lato della polizia, si crea la colonna, tutti a guardare. Beh, in questo caso è come se la polizia ci avesse fatto rallentare e dice guardate pure, e avesse fatto lei il posto di blocco. Questo è stato quello che è successo a Ciampino. Ci sarebbe voluto un po' di silenzio e un po' di tutela nei confronti di questa povera ragazza, con l'idea che permane, torno a dire, che è libera con il corpo, e secondo me non l'è ancora con quello che c'è dentro. Grazie Capozzo, grazie Capozzo, molto gentile, molto interessante come al solito. A presto, ci sentiamo anche via social. Grazie mille, buonasera. Grazie. Grazie a tutti. Mandi. Mandi, mandi. Grazie a tutti.